Allora, dicevamo, no? Il rapporto tra la popolazione e l'ambiente è un argomento anche piuttosto controverso perché avete sentito dire in giro che molto spesso che siamo troppi su questo pianeta, che le risorse non sono sufficienti. Ecco, andiamo a vedere come sta il problema. Vedete, il vostro libro inizia con una parola sottolineata in rosso, distribuzione, e dice la distribuzione non è stata mai casuale. Quindi che cosa significa questo? Banalmente che l'uomo non ha mai, tra virgolette, scelto il posto dove vivere in maniera randomica, in maniera casuale, ma appunto abbiamo, vedete qui, fattori fisico-ambientali e umani, ossia dove si è sviluppata la comunità umana è perché lì si poteva sviluppare la comunità umana. E nel corso di storia abbiamo visto come la nascita di molte delle civiltà antiche aveva sempre delle posizioni ben, ben, ben precise. Vedete, la distribuzione tra l'altro si applica a tutto, alla popolazione, alla produzione, al reddito, ma anche alla morfologia e clima. Banalmente non abbiamo comunità umana nel Sahara per ovvi motivi. Perché? Perché lì la distribuzione non è stata possibile per i fattori ambientali. Vedete, all'inizio ad essere determinanti erano proprio i fattori ambientali, ok? Mentre invece oggi le cose sono cambiate e ad essere determinanti sono i fattori umani. Che cosa significa? Che mentre io all'inizio avevo la possibilità di stabilirmi dovunque purché io avessi mezzi per vivere, oggi invece non basta avere la natura o il campo coltivabile o il clima buono, serve anche lo sviluppo. Vi ricordate prima, ho fatto la battuta, no? Il vostro docente di storia ha la connessione a carbone? Ecco, il vostro docente di storia vorrebbe andare a vivere in un posto dove non c'è la connessione a carbone. Quindi vedete che il fattore è tecnologico e non è più soltanto ambientale o spaziale. Quindi vedete che in realtà è molto diversa la situazione da oggi rispetto all'antichità. Nell'antichità c'era il fiume, c'era la terra fertile, c'era il clima adeguato e quello bastava per lo sviluppo di una comunità umana che poi si evolveva o meno a seconda degli scambi. Mentre oggi, quando io scelgo il posto dove vivere, sono molti di più i fattori. Ora, vedete, qui parla di fattori fisici. Sto seguendo il vostro libro, siamo a pagina 282. E i fattori fisici ovviamente sono quelli che abbiamo visto nel corso di storia. Quindi il territorio pianeggiante, la terra fertile, l'acqua dolce, importantissima, infatti vi cita la Mesopotamia, eccetera, eccetera. Adesso penso che il mio faccione copra quella parte del libro, ma in realtà potete anche seguirmi mentre io dico questa cosa. La vicinanza al mare, soprattutto per quanto riguarda la civiltà greca, abbiamo visto che il mare è sempre stato un elemento fondamentale. Oh, vedete questa bella cartina? Poche aree molto popolate. Penso che il mio faccione non copra più di tanto, perché ovviamente non ho il feedback immediato di quello che sto facendo. Vedete? Le zone che sono delimitate in rosso sono quelle dove si concentra la maggior parte della popolazione. Vedete? La dicitura abitanti per chilometro quadrato indica un concetto che si chiama appunto la densità di popolazione, indica quante persone vivono all'interno di quel chilometro quadrato. E come vedete le aree più popolate corrispondono con l'Europa, la regione cino-giapponese, l'India e la parte atlantica degli Stati Uniti d'America e la regione sud-est del Brasile. Quindi la densità, quindi l'avete anche qui, indica quante persone vivono nello stesso chilometro quadrato. Vedete? Qui vi parla di otto aree che sono le più popolate e sono quelle che vi ho elencato. Quindi sono quelle dove attualmente, tra l'altro, sono anche oggetto di immigrazione. Immigrazione, soprattutto quelle più sviluppate come appunto l'area statunitense, sapete che c'è tutto il problema del confine col Messico e dell'immigrazione messicana, ma soprattutto l'area europea e anche qui sapete che c'è tutto il problema di questa fascia molto popolosa e di questa fascia molto popolosa, vedete l'Africa Mediterranea e l'Africa subsahariana, che sono appunto le zone da cui la popolazione sta scappando per motivi sia ambientali ma sia sociali e di sviluppo, e stanno arrivando in Europa a cercare condizioni di vita migliori, provocando tutto il dibattito che noi conosciamo. Se ci fate caso, vedete, il vostro libro dice, queste aree sono tutte in fasce ben precise, vedete, temperata boreale, tropicale, monsonica, fronte marittimo, quindi sono quelle fasce dove i fattori ambientali sono quelli, tra virgolette, messi meglio. Notate quello che vi stavo dicendo, ossia che non c'è, vedete anche i colori, quelli in bianco sono le aree completamente disabitate, dove la vita umana non è possibile, vedete però che in realtà, persino nel deserto del Sahara, si può registrare una densità di popolazione da 1 a 50. Non è casuale invece che tutte le aree più popolose corrispondono con una zona costiera, quindi il mare come questo elemento fondamentale, vedete, metà della popolazione vivente è sulle coste, ovviamente con differenze regionali, legate a che cosa? Allo sviluppo della comunità, è normale che la costa atlantica degli Stati Uniti presenti un livello tecnologico, sociale, evolutivo, molto diverso dalla costa atlantica, per esempio, dell'Africa subsahariana. Questo grafico, vedete, vi mostra un altro dato molto interessante, significa i livelli della popolazione divisi tra la popolazione urbana, ossia quella che vive nelle città, e la popolazione rurale, che invece è quella che vive nelle campagne. Perché questo è importante? Perché l'urbanizzazione, ve lo ricorderete, lo ritratterete quando farete la seconda e la prima rivoluzione industriale, è un fattore che incide sullo sviluppo delle comunità. Quindi che significa? Che se la nostra civiltà è una civiltà formata da contadini, è una civiltà che è economicamente e tecnologicamente più arretrata. Pensate, per esempio, alle popolazioni africane, che presentano ancora un'economia rurale, e che quindi fanno parte appunto del mondo in via di sviluppo, mentre invece la nostra civiltà occidentale, l'Italia, la Germania, la Francia, gli Stati Uniti, sono civiltà industriali e terziarie, e la popolazione in questo tipo di ambiente si concentra tutta nella città, e non nella campagna. Vedete, tra l'altro, che negli anni 50 del 900 la popolazione rurale era molto più alta di quella della città, vedete questa differenza, ma adesso i ruoli si sono totalmente invertiti. Quindi l'urbanizzazione di pari passo, perché cosa significa l'urbanizzazione? Se più persone fanno parte della popolazione urbana, cresce anche la popolazione che vive nella città, ma crescono anche le città. I termini tecnici appunto sono inurbamento e urbanizzazione. Ma si parla anche di metropolizzazione, ossia le aree urbane diventano talmente grandi, talmente è da esplodere, quindi la metropoli indica qualcosa di molto 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 più grande. Si parla addirittura di una seconda esplosione urbana. Il problema, tra l'altro, della popolazione urbana e rurale si intreccia inoltre con un fattore decisivo, un problema che ha fatto molto parlare di sé, che è quello della crescita demografica. Un problema che in realtà non è molto semplice come tanti vogliono farvi credere, ma che in realtà si fonde in maniera complessa con tutte le sfide del nostro tempo.